uscito nel 2021 e ancora disponibile per celebrare il suo trentesimo anniversario metallica the black album è stato vincitore di gremmy e certificato 16 volte platino si tratta della rimasterizzazione di un album che ha cambiato per sempre la storia del metal insomma un album eccezionale da ascoltare tutto d'un fiato